Stasera si rinnova una sfida che ha fatto la storia del calcio italiano, Juventus è contro Roma. Una buona serata allo stadio olimpico di Torino da Maurizio Compagnoni. E Antonio Di Gennaro. Inserimento centrale di Nedved, palla dentro del Piero in area, del Piero! Si allunga troppo il pallone, Doni. Si inserisce ancora Panucci, lo va a prendere Molinaro, subito il cross di Panucci, palla sottoporta! Palo! Parte del Piero, palla sottoporta, Chiellini, Doni! Non è finita Molinaro, può andare alla cross, pallone che si impenna, mette fuori Quan. Si promuove Molinaro, grande forcate, prova a prendere in velocità Panucci che non lo tiene. Molinaro, l'altra versione a Maurizio Marchionni! In breve la rincrossa di Del Piero, fischiato Rizzoli. Parte del Piero, Del Piero, rete! Rete, un gol ancora più bello rispetto a quello allo Zenit. Apertura della portoghese, pallone perfetto per Amolinaro. Applausi per Tiago, una novità del Piero! Del Piero porta palla, allarga a destra per Marchionni che arriva puntuale, il cross di Marchionni, a Maurizio Doni! Pallone di Nedvede per il lacrimano della Juve, scattata a Maurizio, Del Piero, zona tiro, Del Piero allarga per Marchionni che arriva a rimorco, Marchionni, in area Marchionni! Rete, rete, Marchionni un gran gol! Del Piero, Molinaro, l'assisto di Molinaro a cercare a Maurizio! Immobile Doni, palla di poco fuori, grande a più di secondo tempo anche via Maurizio! Si propone Del Piero, le finte di Marchionni, sovrapposizione di Grieghera, palla per il cieco, il cross di Grieghera, deviazione, pericolosissima, ma comunque efficace di Juana in calcio l'angolo. Difende il pallone Del Piero, Pisano non lo molla, si gira bene Del Piero, dentro per la Maurizio, in area, Maurizio parte il tiro, Doni! Game over all'Olimpico di Torino, una grande Juve, supera 2-0 la Roma. Un gol, un assist, una grande risposta. Sì, un altro passo, un altro passo, non dobbiamo essere soddisfatti, lo dicevamo prima della gara, dobbiamo dirlo ancora adesso, però un altro bel passo contro la Roma, che si è dimostrata comunque una squadra forte, che magari ha qualche problemino, però forte, quindi siamo molto soddisfatti. Ci sono stati anche belli applausi perché ci sono buone prestazioni di gente, se vogliamo delle seconde linee, chiamiamole così, di gente che aspettavamo come Molinaro, come Tiago, da capitano, questo è importante? È importante, è importante, sì, la gente ti appoggi sempre, anche quando le cose non vanno benino, è importante che noi dimostriamo carattere, voglia di primeggiare, voglia di vincere, iniziativa. Queste cose sono cose importanti sia per la squadra che anche per la gente, secondo me, che vede spirito giusto. Grazie.